Ciao a tutti ragazzi, siamo a LavaiRobin con questo nuovo video. Oggi andremo a giocare a un quiz sul calcio. Proveremo un nuovo argomento, diciamo. Quindi proviamo a vedere quante ne sappiamo di calcio, visto che comunque siamo entrambi molti tifosi di squadra, io, Iventino e Monzese, perché appunto ho mio papà che è monzese. E oggi è domenica, giocare in Monzese vince una Serie A, speriamo. Siamo a pazienza. Mia moglie è interessa in tavantina. Ah sì. Vai amore. Vado. Ah, già ho messo in pausa io. Allora, qual è stato il punteggio della partita inaugurale della Coppa del Mondo 2018 tra la Russia e l'Arabia Saudita? Mi sembra chi è al 5-0. Mamma mia. E perché c'è il... Non me lo so ricordato, è che... Era una bella qualiata. Cosa? Il inaugurazione al Mondiale. In chi è al 5-0 è tantissimo. Vabbè. Guardate, questo logo rappresenta un club... Ah, il Borussia Dortmund. Ma, 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 ma... Sì, la sa pure io questa. Cioè... E quindi? Ma ciò, perché non mi interessa. No, non mi sembra... Ah, abbiamo preso una vita in più. Viene ottimo. Però, ottimo. Ristello Ronaldo segnato... Ah, ha segnato. Ha giocato solo 8 trasferti in Serie A per la Juve e ha battuto il record di Serie A per la maggior parte delle partite consecutive con un gol segnato. Vero o falso? No, no. Ha giocato solo 8 trasferti in Serie A per la Juve. E ha battuto il record di Serie A per la maggior parte delle partite consecutive con un gol segnato. Da che c'è il tempo? Solo 8 non è vero. Vero, invece. Ah. Ha segnato il 27 gennaio 2019 contro la Lazio. L'ottava partita in trasferso se non si potiva. Un ricordo che non era dei treponti. Ah, no, no, non me lo ricordavo. Non te lo ricordavo? No. Cioè, è vero che comunque è stata la Juve CR7, però non me lo ricordavo proprio. Va bene, ma tutti da tutti. Il... Ah, no, you will... Ah, è l'inno del Liverpool. Sì. Liverpool. Liverpool. Ver... Paul. Esatto. Sì, è il titolo dell'inno del Liverpool. Ah, è vero? Sì. Lo sapevo. Barcellona ha vinto il titolo di Champions League nel 2015, con chi hanno giocato in finale? Juve. Ah, ma... 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 che cazzo è? Ah, che cazzo è? Eh, cazzo è Juve. Lo facciamo. No, amore... No, 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 no. C'è la data comunque. Ah, pubblicità. Ah, ma tanto... Pubblicità. Città. No, com'è che era la canzone che c'era di... Boh, vabbè, facciamo stare. Chi è a livello mondiale il giocatore più costoso di tutti i tempi con meno di 20 anni? Filippo Coutinho, Dembele, Neymar, Mappé. Mappé. Eh, ma dai! Dicente... No, Mappé... A me che lo dice? Non lo ricordo. È il primo adolescente francese dell'europeo a segnare nella finale della Coppa del Mondo e il secondo nella storia della Coppa del Mondo... Dopo Pelé. Vero. Ah, mi non lo sapevo. Vero che ha segnato nella finale. David Beckham ha segnato 11 gol per il Real Madrid nel Classico contro il Barcellona. Vero o falso? 11 gol, sono tatti però. Sono mai vero? Falso. Quanti l'avrà segnato? Di meno? È l'unico calciatore britannico che non ha segnato. Ma dai, che sfortunato. Che gli capita? Beckham. Vabbè, pensavo. Quale paese ha ospitato la Coppa del Mondo FIFA del 2018? Questa è l'alberdaro. Il mondiale che portò per l'Italia a Porca in Sera non si è qualificata. Sì, facciamo stare. Sì, infatti. Se mi devo incazzare, sinceramente. Mi l'avevo abbastanza fatta tirare. Iran Madrid ha battuto il Bayern Monaco nella fase minuzione diretta da Champions League tre volte in cinque anni. È successo nel... Eh, vabbè, ma... Allora, secondo me è successo nel... Sono tre anni comunque, quindi... Non posso farti un po' suggerimento? Non è, è. Non posso far suggerimento? Mi faccio suggerimento? No. Non è 2014. Ah, 14, 17, 18. Che non è la ronda? Ah, sì. Vero? Sì, vabbè, raga, poi io non ti fai dal Madrid, non mi interessa. Cioè, Reseta ha segnato un'altra belletta per l'Ariventus contro l'Ariventus Madrid per battere il vantaggio. Sì. Ve lo ricordo. Mamma mia, che... Cioè, che partì... Cioè, che serata, mamma mia. Eh? Vabbè, io sto zitta. Eh? Allora, domanda se la... Ovviamente se potesse fare il monte contro l'Ariventus. Che strusso. Dio Simone ha risposto. Ma non è serata. Se succedi, mi metterò a vendere... Un cuore a Madrid. Ma va fa... Intanto, tra zero. Intanto, quindi tacci, Simone. Ho chiesto Simeone, scusa. Eh, l... È o era l'allenatore dell'Ariventus Madrid? Adesso non mi borsa ancora... Quale animale è stato chiamato... Io salito questa perché è difficile. Quale animale è stato chiamato... Zabibaka? Zabibaka è stato scelto per essere la mascola della Coppa del Mondo del 2018? E mi sembra il lupo. Sì. Sì. Non lo sapevo. Ah, che carino! Sì, imparato me lo ricordavo. Che cucciolo! Eh, vabbè, ho capito. West Panina Stadium... Sigla Iduna Park è la casa di quale scuola di calcio è orbia? Sì, ma di scher... Cioè... Se non è West Ham... Ma poi puoi fare anche salto... No! Fai tipo salto suggerimento che ti levano un po'. Suggerimento? Sì, ma ti dà la D. Ah, allora è Borussia Dortmund. Borussia. Sia. Dor... 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 Come si scrive? Dor... No! Mondo. Ah, ok. Mamma mia! Minchia, non lo sapevo. Ah, sì? Ah, sì. Vabbè, ma come si sa... Eh, perché a me comunque piace non sa comunque quando... Eh, quando so... Ovviamente di stare, mi piace non sa comunque... Ovviamente di sapere dove è questa... Il nome di questo ex giocatore olandese? Pure bilanista. Sì. Sì, vediamo. Non è se... No, fa un bagno. Spara cazzo, spara cazzo. Ah! Era Frank... Ricciardo. Ricciardo. No, Ricciardo. Ha vinto la Champions League come giocatore olandese. Sì. Chi è il giocatore più anziano a fare un'attriblete in una Coppa del Mondo? Aspetta. Eusebio. Mi sembra Ronaldo di certo. Mi sembra Ronaldo... Mmm... Ho diseguito. Non è Eusebio. Ma fa male. Ah, mi sembra Ronaldo? Ah! Oh, oh, l'ho in mezzo insultato. Ronaldo ha segnato la cinquantonesia attribletta nella storia della Coppa del Mondo a 33 anni e 131 giorni. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Cioè, nemmeno lo riportavo. No, io non lo sapevo proprio. Ah, aspetta. Il 28 marzo 2019 Lucas Hernandez è stato trasferito dall'Atletico Madrid per 80 milioni di euro. Quale squadra l'ho comprato? Bayern? Bayern? Chi l'ha preso sto piccio? Manchester? Chi è? Cioè, chi è? PSG. No, fa male. Ah, il Bayern Monaco la presa. Io non lo sapevo. Ma io le guardo in... Ah! Facciamo l'ultimo? Sì, dai, va benissimo. Il termine americano per il calcio social è stato utilizzato prima volta in Inghilterra, secondo me sì. Vero. Infatti. Se social penso che sia appunto, eh, infatti. Eh, sembrava strano. Beh. Era giusto. Ok? Buona. Sì, sì, basta, basta. Allora, stavo facendo questo qua perché non so. Chi era l'ultimo club francista a giocare in una finale di Champions League? San... San Tien... Versico e Paris Saint-Germain? Non è? No, fa male. Ah, fa male il Monaco. Io non lo sapevo. Ok, basta. Bene, ragazzi, diciamo che dai. Dai, non... Sono stati abbastanza bravi. Certo, alcune cose, tipo Lucas Hernandez, che proprio non lo sapevo ancora, perché non è che mi interessa delle calciomefiate estero. Vabbè, però... Però dai, alcune cose le so. Certo, se mi sono stato andato d'amore mia... Ah, ma lo sapevo, lo sapevo tutti ormai. No, ma io ma perché ci sono rimaste talmente malessia, anche io trovo a Real Madrid nel 2017, che purtroppo brucio ancora, e se anche a Berlino, purtroppo. Vabbè, inizi, ragazzi. Eh, io ho bloccato i dati. Tranquil, la cuccia, la. Dai, mia moglie. Eh, amore, vedete la chiusa, la. E' una patata? Devo schiacchiare. Ah, su. Tei! Hai, mi mamma, mi chiede. Ti sei, non è caso. Dico io. No? Ok. T'ho desato. Non, stavo gattando io. Dai. Dai, non è mio. No, basta. È un barbecino. No, non te lo do. Gatti, sono. Sapete di sé. Dai. Sapete di sé. Dai. Quindi, quindi, mi raccomando. Tanti like, commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Quindi, vi do per tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.